La manifestazione è aperta a tutti Apprendiamo in questo momento che il commissario governativo è stato informato che il movimento Notav Terzo Valico ha lanciato l'iniziativa giù le mani dalla benedicta Tieni prendi anche il mio branco e prendi anche tutto lo zaino Chiovino pensa che una femmina non possa dare i numeri ma si sbaglia Minchia che odio